E' un pezzo bellissimo Gianni, bravo, complimenti. E' in ritardo. Ahi! No, era così ansioso di lavorare da correre verso l'armadio delle scope. Tu non vedi musica qua. Ma mi pare che la meriti e di certo non se l'è guadagnata, quindi non può arrivare in ritardo. Mi vedi di fare un papà buon Natale e... Ciao Maria, ciao oggi. Come va? Ci sono già, si rascolgono le tante. Ma si? Io non ci sto più da un bel po'. Mottene fuori caccia e cose sanno. E se se le le le... E se se le 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 le... E se se le le le... E se se le 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 le... E se se le le le... E se se le le le... Ciao Mario. Fammi tu... Pi... Pi cosa già? Che cosa? Un caffè artistico. Sò buono. Vorresti ballare con me? Stai scherzando? Vedi caffè? Certo. Ho capito, ma non mi userai per smettere di pulire quelle finestre. Martedì. Finisce lunedì. Ti ringrazio, ma... Credo che riuscirò a trovare qualcun altro. Sì, sì, sì. No, aspetta! Sì. Prendimi. Sì. 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 Domani alle due e mezzo, porta la calza magna. Bene. Tutti i corsi anche. Ancora cambiarti. Nessuno ne l'ha vissuto nuovamente. Mi mandati. Già, mare. A posto. Comincio io con una combinazione. Vieni con mia che cantiamo Waka Waka. Passo, ginocchio. Passo, apri. Passo, giro. Passo, cambio. Contrati. Sì. 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 E basta. Si ricorderai di noi? Ma... Ma no, ma no, no. Vedi che ci scatta il campione. Ciao, Mario. Ciao, oggi.